Mi chiamo Desmond Miles e sono un prigioniero di guerra, una guerra di cui ignoravo l'esistenza fra due fazioni che non immaginavo reali, i Templari e gli Assassini. L'Animus mi ha mostrato la verità, quello che ho visto, quello che sono stato, mille anni di storia che mi scorrono nelle vele riportate in vita da questa macchina, la usano, anzi mi usano per trovare qualcosa, la chiamano la mela, è un manufatto, uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden, i Templari li vogliono, è così che non tengono il potere e se i Templari ne trovano un altro, beh cambieranno parecchie cose, vogliono renderci tutti schiavi, quando mi portarono qui all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito, ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio, ma non posso riuscirci da solo e forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza, Lucy, e credo stia dalla mia parte, ma adesso non c'è. Se l'è portata via quel bastardo, Warren Vidic e i suoi padroni Templari, non so cosa le succederà o cosa succederà a me. So solo che devo uscire di qui e devo farlo alla svelta. mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Dobbiamo andare. Lucy, dove sei stata? Perché ti hanno... ora. Sally. Cos'è quel sangue? Sei ferita? Senti, forse abbiamo dieci minuti. Forse, prima che scoprano cosa ho fatto. Se prima di allora non siamo fuori di qui... Cosa? Ce ne andiamo? Desmond, prometto che risponderò a tutte le tue domande. Dopo. Ma adesso ho bisogno che stia zitto e faccia quello che dico. Quindi, per favore, entra nell'Aribus. Va bene. Sì. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. È maschio. Oh, amore mio, mi dispiace. Ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo tardi. Dallo a me. Giovanni! Shh, amore mio. Va tutto bene. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò combatti Sentite qua Che razza di polmoni E che nome gli daremo, amore mio? Ezio Ezio, auditore da Firenze Azza, andiamo Mi serve un secondo Non c'è tempo, Desmond, dobbiamo andare Stiamo davvero uscendo di qui L'abstergo ha degli arredatori con le contropalle Sta vicino Ehi, non siete autorizzati a stare qui Aprite la porta Chiamo rinforzi Abbiamo una violazione nell'ala di ricerca Ripeto, c'è stata una violazione nell'ala di ricerca Qui, Desmond Rete di vetro Zico Eccoli lì Non fateli scappare Oh, cazzo Ma guarda che posto E le telecamere? Ci ho pensato io Mostrano vecchie riprese Come credi che abbia nascosto all'abstergo Tutte le tue esplorazioni notturne? Sei in gamba Così mi dicono Ma ora ci sono addosso Bisogna sbrigarsi Attento Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala Stammi dietro Ma occhio a quelli della sicurezza Evitiamo gli scontri, ok? Quello è un Animus Aspetta Fermo Ma che... Ma quanti ce ne sono? Sta vicino Si dice gli Animus o gli Animi Tu che cosa dici, Lucy? Lucy? Che se ne faranno di questi? Desmond Chiudi il becco Per favore Cazzo Pensavo che questa scheda funzionasse Deve essere su un altro sistema E non ho il codice Aspetta Merda Avanti Come hai fatto? Non lo so Andiamo È sempre qualcosa Che cos'era quello in Animus? Il soggetto 16 Ezio Audi Audi qualcosa Credo che ci siamo sbagliati Ecco perché dobbiamo uscire di qui Vedi che i Templari Sono solo una parte del problema Che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati Arrivati dove? Come vi Entra. Scherzi. È per la tua incolumità. Uffa. Ci siamo quasi. Grazie davvero. Fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio è sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti parevo. Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? Desmond! Di qua! L'abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile. Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I Templari sono troppo potenti. E ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa centro io. Vogliamo addestrarti. Farti diventare uno di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto in azione. Io non sono capace. E anche se lo fosse ci vorrebbero mesi, anni. No, non con l'Animus. Non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio. Se riesce a seguire le sue tracce, imparerei tutto da lui. Proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'Absterego e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Senti, c'è ancora dell'altro. Ma dovrei aspettare. Fidati. Ok? Va bene. Ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa. Sono solo un po' sorpresa. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda. Dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. Lucy! Ce l'hai fatta! Dio, quanto tempo! Sette anni, roba da non credere! Davvero? Bentornata. Ah, questo deve essere il famigerato soggetto 17. Desmond Miles, giusto? Voi chi siete? Scusa, che maleducato. Sono Sean Hastings e lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione, ma se non vi spiace sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'abstergo. Wow! Il nucleo di memoria! Ma è fantastico! Con i loro dati le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul codice di inserimento. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond... Questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. Ciao, Desmond, come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby. Faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. È più in fretta. Comunque, quando sei pronto, siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Ciao, senti. Volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì, all'abstergo. E che, insomma, non ero pronto. Tranquillo. No. Dopo quello che ho passato, sapere che i Templari esistono ancora, quello che progettano... Ciò che hai fatto, è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. E questa come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. No, è che sei un po' panta. Sean! Beh? Fatto. Ciò che non è riuscita. Assoluto. Perchè? Si, se vuole una sessola. Intanto. Si, perchè? No, è inizio. No, è inizio. Il respiro. Si, perchè. Non è un po' panno. Quattro. Non è inizio. Io non è inizio. Ciao, che ha! Quindi, 3. Grazie a tutti. 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 Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donna e vino, eh? Sperperati non direi. Restami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Avranno purtroppo... Avranno pure qualcosa in scarsella. Come on, come on. Grazie a tutti. Va bene, dovrebbe bastare. Togliamoci di torno prima che arrivino le guardie. Sbrigati Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Una scommessa fraubriata. Grazie a tutti. Qualcosa vi affligge, amico? Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. È ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Il nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già. Vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va a una piccola gara? Fin dove? Ah, il tetto di quella chiesa. Il mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Forza, allora. Di qua. Ma dove vai? Vedrai. Il nostro padre si chiedere. Bella vita la nostra, eh, fratello? La migliore. Posso non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene, adesso basta. Dobbiamo tornare a casa, andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Alla prossima.